I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno arrestato una banda dedita al furto di motorini. Si tratta di due palermitani ed un agrigentino, indagine scattata a seguito di alcune denunce presentate a Sambuca di Sicilia. Complementarietà tra ospedale di Sciacca e Ribera, dimezzando i rispettivi reparti di medicina, è un esperimento rozzo, così il Comitato Sanità, che annuncia di aver aderito alla protesta promossa dal cartello sociale. Mancano i medici, e non certo solo ad Agrigento, ma in tutto il mondo. Potete anche crocifiggermi ogni giorno, ma è questa la realtà? Lo ha detto oggi Zappia presentando il progetto dell'asilo nido e aziendale a San Giovanni di Dio. Il questore ha fatto chiarezza, confermando che la verità sul trasferimento dal centro storico alla perliera è quella pronunciata dal sindaco e non quella di Miazio Messina. Così oggi è la coalizione che sostiene Fabio Termina. Dopo Menfi si insediano i nuovi consigli comunali, stasera anche a Sambuca e a Calamoneci. Nel comune Bellicino il nuovo sindaco Cacioppo ha nominato i suoi assessori, tra i componenti con il ruolo di vice sindaco anche Leo Ciaccio. Cambiano le amministrazioni, ma i bagni pubblici della villa comunale di Sciacca continuano a rimanere inagibili. Ieri pomeriggio sono tornati ad accendersi sul giardino pubblico per antonomasia i riflettori del comitato Provilla. Benvenuti anche oggi al nostro telegiornale. In apertura alla cronaca i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno arrestato tre persone che farebbero parte di un gruppo dedito al furto di motocicli. C'è il servizio. I carabinieri della compagnia di Sciacca, in collaborazione con i militari della compagnia Carabinieri di Palermo, hanno eseguito tre ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale procura della Repubblica. Agli arresti domiciliari sono finiti due palermitani e un sambucese, ritenuti facenti parte di un gruppo criminale dedito ai furti di motocicli. L'attività investigativa è scaturita da due denunce che erano state presentate tra gennaio e febbraio di quest'anno alla stazione Carabinieri di Sambuca di Sicilia, relativa al furto di tre motocicli trafugati dai garage di due abitazioni del centro. Le indagini, che si sono avvalse anche dei filmati di alcune telecamere collocate nel centro belicino, hanno consentito di individuare alcune persone che, seguendo un consolidato cliché, riuscivano a colpire indisturbati. Infatti la banda, tramite un basista di Sambuca di Sicilia, individuava gli obiettivi da colpire e sulla base delle indicazioni ricevute agiva portando a segno i colpi. Successivamente entrava in scena lo stesso basista che fungeva da canale di comunicazione tra le vittime e gli autori dei furti, offrendosi come mediatore per far riottenere dietro pagamento i motocicli sottratti, di fatto utilizzando il metodo estorsivo meglio noto come cavallo di ritorno. È stato solo in questo modo che una delle vittime, pagando 4.500 euro, è riuscita a tornare in possesso di uno dei due motocicli rubati. Nel corso delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei tre indagati, i militari dell'arma hanno rinvenuto una moto da Cross Fantic e il motore di un motociclo Piaggio Liberty 150 risultati rubati a Palermo nell'estate dello scorso anno e che sono stati restituiti ai proprietari. Nel corso dell'operazione, peraltro, è stato effettuato anche un arresto per detenzione di stupefacenti a Sambuca di Sicilia. I carabinieri, nel tentativo di rintracciare una delle tre persone destinatarie delle misure cautelari, si sono recate nell'abitazione di un parente, dove sono state rinvenute diverse decine di grammi di hashish, cocaina e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato e sottoposto, come gli altri tre accusati di furto, agli arresti domiciliari. Ulteriore svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonino Titone, avvenuto a Marsala nel settembre dello scorso anno. I agenti della squadra mobile della questura di Trapani e i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Marsala hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne marsalese, ritenuta responsabile dei delitti di omicidio e rapina, in concorso con un uomo che era già stato arrestato il giorno stesso del delitto. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l'uomo, nel corso di una rapina scaturita da questioni legate allo spaccio di stupefacenti, avrebbe ucciso Antonino Titone colpendolo ripetutamente alla testa utilizzando un oggetto contundente e si sarebbe poi allontanato assieme alla donna che aveva invece sostenuto di essere rimasta fuori dall'abitazione durante le fasi concitate che sfociarono poi nell'omicidio. Le successive accurate indagini avrebbero permesso di accertare invece la responsabilità della donna che sarebbe entrata nell'abitazione di Titone rivestendo un ruolo attivo sull'omicidio. La trentenne è stata arrestata sull'isola di Favignana dove si trovava per ragioni lavorative e associata al carcere Paierelli di Palermo. Cambiamo argomento, anche il Comitato Civico per la Sanità ha aderito alla manifestazione di protesta in programma il 17 giugno del cartello sociale di Agrigento per sollevare la questione dei disservizi e dei problemi negli ospedali. Intanto fa discutere la suddivisione in atto del personale medico della medicina di Sciacca con quello di Ribera Per Franco Giordano, coordinatore del Comitato, siamo di fronte al paradigma dei problemi del Giovanni Paolo II dove le difficoltà della popolazione continuano ad aumentare. Sentiamo il servizio. Secondo me gli esperimenti abbastanza rozzi che vengono espletati fra Sciacca e Ribera sono la dimostrazione di come non si organizzano i servizi sanitari. Secondo me è arrivato il tempo di dire chiaramente che il concetto della complementarietà nell'organizzazione dei servizi sanitari è una sciocchezza. Due reparti di medicina a distanza di 20 chilometri con lo stesso organico ma con un volume di lavoro che è abissalmente diverso semplicemente non possono esistere. Sono una sciocchezza scientifica, culturale, organizzativa e chi più ne ha più ne mette. Questa è la durissima opinione di Franco Giordano, coordinatore del Comitato Civico per la Salute che oggi conferma la presenza e rappresentanza alla manifestazione promossa da Cartello Sociale di Agrigento per il prossimo 17 giugno proprio sul tema della sanità. Finalmente viene fuori quello che diciamo ormai da anni perché possiamo dirlo che è da anni che noi lanciamo questo allarme perché le sensibilità e i problemi concreti delle persone in carne ed ossa per avere risposte ai loro bisogni di salute e quindi di strutture, competenze e disponibilità delle persone in grado di fornirli rimangono nonostante i messaggi che vorrebbero essere rassicuranti che vengono da quelli che sembrano come dire, succursali della pravda. Giordano poi così commenta l'ammissione da parte dello stesso commissario dell'ASP Mario Zappia che bisogna togliersi dalla testa l'idea di 5 ospedali fotocopia. Spero non lo dirà proprio a noi, dice Giordano, visto che è da tempo che rivendichiamo proprio questo concetto. A quanto pare chi lo dice prima ha torto e chi lo dice dopo ha ragione. Conferma più autorevole e ufficiale delle cose che andiamo dicendo ormai da parecchio tempo non potevamo avere. Il problema è che la pretesa di fare degli ospedali fotocopia con risorse invariate e immutate e che non cambieranno nell'immediato futuro significa soltanto fregarsene dei problemi reali delle persone. Guardate le liste di attesa. Quando uno si sente dire da un centro di prenotazioni che una prestazione, un'ecografia, una colonoscopia o una risonanza, una TAC si potrà avere nel pubblico a distanza di 5-6 mesi, vuol dire una cosa molto semplice. Non è che noi stiamo assistendo a una deriva verso il privato. Noi siamo già abbondantemente in un regime di consegna della stragrande parte dei servizi sanitari alle strutture private e spesso in nero. Nell'organizzazione dei servizi sanitari esistono servizi che funzionano, H24, e forniscono le prestazioni di cui è bisogno una popolazione. Ciò a cui noi assistiamo e abbiamo assistito non è altro che un utilizzo della discrezionalità cosiddetta manageriale per operazioni di bassa cucina politica che hanno aumentato le difficoltà delle persone e hanno desertificato le strutture che si sforzavano e si sforzano di funzionare. In questo momento qual è la sua sensazione? Quest'iniziativa del cartello sociale evidentemente attirerà le luci dei riflettori, ci mancherebbe altro, ma l'atteggiamento del governo della regione su questo argomento come lo considera? La regione ha pilotato questa deriva privatistica del servizio sanitario, ma non da ora, almeno da più di 10 anni. Ricordiamoci il caso Tutino che fu considerato un incidente di percorso, un elemento isolato in un servizio sanitario altrimenti funzionante, ma quello era semplicemente un sintomo che in troppi hanno sottovalutato. Quindi l'attuale governo e il precedente hanno posto le premesse di questa deriva. Noi forse non siamo riusciti a sterminare per come dovevamo il Covid in tempo in Sicilia, ma sicuramente abbiamo sterminato il servizio sanitario per una volontà esplicita e dichiarata e che continua di distruggere ciò che rimaneva del servizio sanitario nazionale. Potete crocifiggermi ogni giorno, ma il problema è che mancano i medici e non è un problema solo di agrigento, ma di tutto il mondo. Così oggi, a margine di un'iniziativa pubblica, si è pronunciato il manager dell'ASP, Mario Zappia. Sentiamolo. In questo momento con il personale abbiamo delle difficoltà che voi sapete, tutti noi sappiamo benissimo, che è la carenza del numero di personale. Questa carenza del numero di personale a cosa si accoppia? Naturalmente, ha una insoddisfazione sul lavoro e ha difficoltà a conciliare quella che è la vita privata con la vita lavorativa. Ci sono dei fattori nei quali possiamo intervenire e altri nei quali non possiamo intervenire. Ovviamente non possiamo intervenire sul fatto che non ci sono medici, quindi è inutile che ci disperiamo, ci potete crocifiggere ogni giorno, però i medici purtroppo non ci sono, non solo ad Agrigente, non solo in Sicilia. Abbiamo uno studio dell'Organizzazione Mondiale di Sanità che mancano a oggi 4,6 milioni di medici e 5,9 milioni di infermieri. Quindi questo è un dato mondiale, ovviamente. Ricondotto a noi, senza volerci nascondere oppure riferire a cose molto più grandi di noi, dobbiamo vedere quello che noi possiamo fare per i nostri lavoratori, cioè per i nostri collaboratori. E quindi con la direzione strategica e con i dirigenti abbiamo già pensato a quella che è la progressione della carriera, cioè finalmente siamo riusciti a mettere in atto quello che è la possibilità della pesatura delle funzioni per poter fare in modo che chi viene nella nostra azienda a lavorare possa avere una prospettiva di carriera, che è uno degli elementi importanti. La soddisfazione sul lavoro, diciamo che dipende da tante cose, a partire dal team, dalla capacità di organizzare il lavoro assieme agli altri, non mai da singolo. Nascerà all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento un asilo nido aziendale per i dipendenti dell'ASP che hanno bisogno di questo servizio. Lo ha deciso il commissario Mario Zappia oggi la presentazione dell'iniziativa, il servizio di Davide Sardo. Agrigento sarà la prima città non metropolitana della Sicilia ad avere nel proprio ospedale un asilo nido aziendale. Dopo i grandi capoluoghi dell'isola Catania e Palermo adesso tocca all'ospedale San Giovanni di Dio dotarsi di una struttura di grande rilievo sociale sotto il profilo del benessere lavorativo dei circa mille dipendenti delle loro famiglie. La struttura accoglierà un massimo di 24 bambini, dei tre mesi ai tre anni, figli degli impiegati dell'azienda sanitaria agrigentina. I locali sono già stati individuati al piano terra, nei pressi della farmacia ospedaliera. Dopo la scadenza del bando di gara, la ditta vincitrice potrà avviare lavori di riqualificazione dei locali. L'ambizioso progetto e le sue finalità sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in direzione generale dell'ospedale di Agrigento. È proprio la possibilità di poter equilibrare e poter fare in modo che l'attività privata, cioè la vita della propria famiglia e la vita lavorativa, possano avere il minor numero di disagi possibili. Quindi la prima iniziativa che è stata fatta, e secondo me è un bell'indice di civiltà, è quella di prevedere all'interno della nostra struttura ospedaliera di Agrigento un asilo nito. La domanda viene facile, dice ma negli altri ospedali state pensando di fare qualcosa? Ovviamente questo è il progetto pilota che noi contiamo di concludere nei tempi tecnici veloci, perché la dottoressa Schinelli l'ha sposato con tantissimo entusiasmo. La direzione strategica ha dato l'idea, che è un'idea appunto strategica, nell'arco di pochi giorni la dottoressa Schinelli ha sviluppato tutto, l'ha portata alla nostra firma, penso che questa domenica potrà essere pubblicato, quindi seguiremo e seguirà i tempi tecnici perché siano proprio quelli stretti necessari. Dopodiché secondo me è una cosa da replicare, però ovviamente è un lavoro che si vedrà come verrà fatto nei prossimi mesi. E ancora Sanità, nuova risonanza magnetica in arrivo all'ospedale di Sciacca, lo annuncia l'ASPE di Agrigento, sottolineando di essere la prima azienda italiana ad aggiudicarsi l'acquisto dell'apparecchiatura sulla piattaforma CONSIP coperta dal finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, accedendo per prima alla piattaforma, dichiara il commissario Zappia, ha avuto il privilegio di scegliere la macchina con il miglior rapporto qualità-prezzo. La nuova risonanza rappresenta il quinto acquisto di apparecchiatura con fondi PNRR perfezionato dall'ASPE di Agrigento. Gli altri investimenti riguardano un telecomandato digitale di radiodiagnostica, un mammografo 3D e due gamma camere per l'acquisizione di immagini scintigrafiche. Prossimo obiettivo, l'acquisto di una TAC a 128 strati. E adesso ci fermiamo per una pausa. Le parole del questore fanno chiarezza e confermano in maniera inequivocabile che la verità è quella ampiamente detta dal sindaco Fabio Termine. Così oggi la coalizione che sostiene il primo cittadino interviene sull'argomento al centro in questi giorni del dibattito cittadino, ossia lo spostamento del carnevale alla perriera. La coalizione che torna a sferrare un duro attacco al presidente del Consiglio Comunale, accusato ancora una volta di non esercitare il suo ruolo con il giusto equilibrio, ma anche di avere volutamente innescato una polemica strumentale. Sentiamo il servizio. E con una nota diffusa oggi alla stampa che la coalizione che sostiene il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, commenta le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al nostro telegiornale dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari a proposito dello spostamento del carnevale alla perriera. Dichiarazioni per le quali la coalizione Termine esprime apprezzamento per la chiarezza con cui il questore ha spiegato i fatti relativi all'organizzazione della manifestazione, avvalorando dal punto di vista di Mizzica e PD quanto già spiegato dal sindaco nella conferenza stampa del 13 maggio prima e in aula consigliare poi. Chiarimenti che, stando alle considerazioni contenute nel documento odierno, testimoniano, oltre al tempestivo lavoro fatto dall'aggiunta Termine, l'assoluta volontà dell'amministrazione comunale nell'esplorare qualsiasi soluzione che potesse confermare lo svolgimento della manifestazione nel circuito classico del centro storico e per la quale il questore stesso, tenendo anche a puntualizzare come le interlocuzioni necessarie per valutare tutti gli aspetti relativi alla festa fossero iniziate addirittura prima del suo stesso insediamento, ha ampiamente ed inequivocabilmente spiegato le ragioni che ne hanno comportato il trasferimento in via Iende. Di conseguenza, prosegue la nota della coalizione del sindaco, le dichiarazioni riferite dal presidente del Consiglio Comunale Ignazio Messina dopo il colloquio richiesto con il questore che avrebbe paventato un quadro ben diverso e con manchevolezze amministrative per Mizzica e PD vengono così ampiamente spazzate via dalla verità definita inequivocabile che come sempre trova il modo per emergere in maniera netta dalla nebbia di mistificazioni che non troveranno mai terreno fertile si legge nel documento nella nostra visione amministrativa. L'attacco frontale al presidente di Sala Falcone Borsellino prosegue con l'accusa di avere volutamente innescato una polemica strumentale, finalizzata evidentemente dal punto di vista della coalizione che sostiene termine a colpire la credibilità del sindaco piuttosto che a garantire la verità. C'è di più, Messina viene ancora una volta accusato di non riuscire ad esercitare con il giusto equilibrio il suo ruolo confondendo la sua carica con un atteggiamento inappropriato di parte che tenderebbe ad alimentare futili polemiche mettendo a rischio lo stesso dialogo costruttivo che tutte le forze di governo vorrebbero attuare in aula nei confronti dell'opposizione. Auspichiamo, conclude la coalizione termine, che tali delicati equivoci non debbano ripetersi nel rispetto della lealtà politica e morale e delle cariche che si rivestono soprattutto se a garanzia della verità. Diramato l'ordine del giorno della seduta consigliare in programma martedì 20 giugno a Sciacca la prima ora dei lavori dalle 19 alle 20 sarà dedicata alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri poi si proseguirà con i punti all'ordine del giorno a partire dal dibattito sulla recente edizione del Carnevale di Sciacca all'esame del Consiglio Comunale la modifica al regolamento per la celebrazione dei matrimoni corrito civile e l'approvazione del regolamento del garante per i diritti delle persone con disabilità. Sambuca di Sicilia si insedia stasera al nuovo Consiglio Comunale intanto è stata accompagnata dalle polemiche ieri l'ufficializzazione da parte del sindaco Giuseppe Cacioppo della nuova giunta, quella di cui fa parte nel ruolo di vice sindaco l'ex primo cittadino Leo Ciaccio dei quattro assessori designati prima delle elezioni ne è stato confermato soltanto uno un fatto che viene stigmatizzato dal candidato sindaco sconfitto Sario Arbisi primo atto politico del nuovo sindaco che sa tanto di vecchio primo scacco matto alla comunità la replica del sindaco la campagna elettorale è finita e confido in un atteggiamento improntato al dialogo da parte dell'opposizione sentiamo il servizio Accompagnata dalle polemiche a Sambuca di Sicilia dove stasera si insedia il nuovo Consiglio Comunale l'ufficializzazione della giunta da parte del neosindaco Giuseppe Cacioppo dei quattro assessori designati prima delle elezioni ne è stato confermato soltanto uno ossia Giovanna Casà che si occuperà di bilancio, istruzione e formazione legalità, politiche e socioassistenziali trasporto pubblico locale scolastico e pari opportunità fa parte dell'esecutivo cittadino con il ruolo di vice sindaco in linea con quanto anticipato ai nostri microfoni dallo stesso sindaco Cacioppo subito dopo la vittoria delle elezioni l'ex sindaco Leo Ciaccio che si occuperà di lavori pubblici territorio ambiente, urbanistica, risorse umane e transizione ecologica ed ancora Giuseppe Giambalvo il nuovo assessore allo sport e spettacolo verde pubblico a Nona mobilità urbana e polizia locale salute e turismo all'assessore Salvino Cicero sono state conferite le deleghe allo sviluppo rurale, agricoltura, attività produttive artigianato, randagismo e arredo urbano completa la nuova squadra assessoriale di Sambuca Adele, Nevini e Apumilia che si occuperà di politiche giovanili e comunitarie risorse tecnologiche e sistemi informativi servizi cimiteriali, edilizia popolare e associazionismo ad eccezione di Cicero tutti gli altri assessori sono stati eletti al Consiglio Comunale la lista Siamo Sambuca quella che ha sostenuto il candidato a sindaco Sario Arbisi ha criticato apertamente la composizione della nuova giunta primo atto politico del nuovo sindaco che sa tanto di vecchio primo scacco matto alla comunità dei quattro assessori designati e presentati per settimane come squadra di governo nel resta uno una palese presa in giro messa in atto per raccattare voti di qua e di là ha scritto così sui social il candidato a sindaco Sario Arbisi poi un attacco anche al sindaco uscente per non essere stato coerente con quanto dichiarato in campagna elettorale e cioè che non avrebbe più avuto ruoli principali ed ancora contestata dal consigliere Sario Arbisi e dalla lista Siamo Sambuca anche l'assenza dall'aggiunta di rappresentanti delle parti sociali e politiche per pensare alla costruzione di un sano governo della città polemiche alle quali oggi il sindaco Cacioppo replica così io onestamente ho visto il post stamattina perché mi è stato sollecitato ma non vedo le ragioni della polemica stessa onestamente dico noi stiamo lavorando è stata composta l'aggiunta siamo andati avanti oggi c'è stato il primo consiglio comunale compito soltanto in una minoranza che non è un'opposizione capace al dialogo e pronta già a confrontarsi in questi giorni in cui bisogna comunque continuare un progetto ricordo soltanto che la campagna elettorale è già finita i termini sono scaduti già una quindicina di giorni fa e sulla composizione della nuova giunta e contestuale sostituzione di tre dei quattro assessori precedentemente nominati Cacioppo dice abbiamo puntato sull'esperienza trattandosi di figure che hanno tutte una grande visione della città non è uno stravolgimento ma è una ulteriore possibilità che stiamo dando al governo delle città e a Sambuca stessa nell'attuale giunta come nella parte che avevamo annunciato prima ci sono figure che hanno grande visione della città alcune delle quali sono state già amministratori recentemente altre sono state nel passato e sicuramente messi insieme possiamo dare un ulteriore slancio e sviluppo a questo progetto di Sambuca prima di tutto e non solo la Sambuca ma siccome già abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione tra l'altro nel territorio diciamo una strada abbastanza abbattuta con i comuni del circondario sicuramente insieme riusciamo a fare squadra squadra allargata a beneficio di Sambuca e del territorio stesso Anche il sindaco di Calamonaci Pino Spinelli rieletto alle elezioni amministrative di fine maggio ha annunciato la composizione della sua giunta comunale a Calamonaci il primo consiglio comunale del nuovo corso amministrativo si terrà questa sera sentiamo Alla vigilia del primo consiglio comunale del nuovo corso amministrativo anche il sindaco di Calamonaci Pino Spinelli ha annunciato ufficialmente la composizione della propria giunta tra conferme nel segno della continuità amministrativa e novità La giunta di Calamonaci è composta da Calogero Perricone che ha ricevuto le deleghe al territorio patrimonio autoparco e agricoltura da Vincenzo Montalbano con deleghe allo sviluppo economico servizi cimiteriali sport e attività produttive Maria Rosaria Sortino con deleghe al turismo spettacolo e pubblica istruzione e infine Francesca Gallo con deleghe al volontariato pari opportunità e politiche giovanili il consiglio comunale si terrà questa sera a Calamonaci e la seduta servirà per eleggere i nuovi presidente e vicepresidente del consiglio comunale per il giuramento del sindaco rieletto Pino Spinelli dei nuovi consiglieri comunali eletti e per la presentazione della nuova giunta comunale ci rimettiamo subito al lavoro afferma il sindaco Spinelli con l'energia di sempre per rendere la nostra piccola comunità ancora più bella e a misura di cittadini e visitatori la giunta comunale come sempre è al servizio dei calamonicesi per qualsiasi esigenza e problematica sono sicuro conclude Spinelli che Calamona ci crescerà ancora grazie ai numerosi progetti e finanziamenti in via di definizione oggi primo consiglio comunale del nuovo corso pure a Sambuca di Sicilia Lucca Sicula e Cianciana e ieri sera intanto a Santo Stefano Quisquina si è svolta la seduta di insediamento del consiglio comunale dopo le elezioni amministrative tutto come da copione all'unanimità è stato eletto presidente Alberto Madonia vicepresidente Massimo Messina nel corso della seduta hanno prestato giuramento i consiglieri comunali e il sindaco Francesco Cacciatore che ha presentato la sua giunta eletti anche i componenti della commissione elettorale cambiano le amministrazioni ma il bagno pubblico della villa comunale di Sciacca continua a rimanere inagibile è una vicenda che si trascina da anni e che ha dell'incredibile considerato che l'area verde è frequentata da bambini e anziani ma anche da turisti che non hanno la possibilità di usufruire del servizio igienico sulla villa Ignazio Scaturo di Sciacca proprio ieri pomeriggio sono tornati ad accendere i riflettori e le associazioni e cittadinanza attiva sentiamo un pomeriggio alla villa comunale di Sciacca per accendere nuovamente i riflettori sull'importante area verde della città l'appuntamento di cittadinanza attiva e delle altre associazioni che hanno a cuore la riqualificazione del bene era programmato per il 5 giugno scorso giornata mondiale dell'ambiente ma le avverse condizioni meteo non avevano consentito di realizzare l'iniziativa che si è svolta comunque ieri pomeriggio Noi siamo qua proprio per mettere in risalto l'importanza della giornata mondiale dell'ambiente che si sarebbe dovuta svolgere il 5 giugno ma che purtroppo per le avverse condizioni meteorologiche abbiamo dovuto in fretta e furia rimandare e chiaramente come dire non abbiamo voluto perdere l'occasione di parlare di questo bene importante per la città e per i cittadini per i bambini vedete di sotto la villa è molto frequentata tra gli obiettivi che cittadinanza attiva si propone c'è quella anche della tutela dei beni comuni in questo caso di questo bene comune primario importantissimo antico che dovrà essere valorizzato noi abbiamo avuto una buona interlocuzione con l'amministrazione e ci sono delle cose delle situazioni che dovrebbero essere prese in considerazione e sistemate c'è tanto da fare per la villa comunale di Sciacca c'è anche una situazione ritenuta di potenziale pericolo legata alla presenza della cabina elettrica credo che una monotenzione straordinaria che venga fatta una tantum credo non può non può bastare penso noi abbiamo pensato che una manutenzione ordinaria quindi riferito al giorno dopo giorno alla settimana dopo settimana in base ai lavori da seguire certo giustamente una scerbatura adeguata una pulizia adeguata chiaramente dovrebbe essere quantomeno eseguita ripeto io non me ne intendo tanto ma almeno una volta al mese due volte al mese due volte al mese poi per la pulizia chiaramente giornalmente perché è un sito abbastanza visitato e chiaramente anche questa questa bellissima vasca ha bisogno di essere di avere una manutenzione costante perché ci sono gli animali i bambini vengono ecco scattano delle foto è bello ritrovarsi qua abbiamo visto quanti bambini ci sono poi un'altra cosa vorrei sottolineare se mi consentite la cabina giustamente deve rimanere qua per carità non non voglio interloquire su questo però chiaramente ha come dire è stata salvaguardata in maniera non proprio idonea abbiamo visto che se qualcuno se qualcuno volesse andare oltre la recensione può andare quindi chiediamo innanzitutto per la sicurezza di tutti coloro che transitano in questo sito di sistemare quanto meno meglio questi pali questa recensione ecco da anni si attende una riqualificazione della villa comunale di Sciacca quello che invece siamo costretti a constatare che rimane inutilizzabile il servizio igienico nonostante le denunce e i solleciti il bagno è sempre chiuso un fatto inaccettabile che viene stigmatizzato anche da cittadinanza attiva i servizi sono essenziali perché chi viene qua e rimane per un'oretta un'oretta e mezzo i bambini anche per due ore sicuramente hanno bisogno poi di utilizzare i servizi chiediamo anche di essere messi in situazione di fruibilità ecco chiediamo che venga fatta al più presto perché la stagione estiva ormai imminente arrivata sicuramente attirerà più persone molti visitatori quindi chiediamo che alcune cosette possono essere sistemate messa in sicurezza dell'alveo del fiume Platani nel territorio di Ribera e Cattolica Eraclea l'ADC di Ribera evidenzia come l'autorità di bacino del distretto idografico in Sicilia sta provvedendo agli interventi necessari ma stigmatizza dei ritardi dell'amministrazione comunale sentiamo di cosa si tratta nel servizio l'autorità di bacino del distretto idografico della Sicilia ha avviato l'iter per l'intervento di messa in sicurezza dell'alveo del fiume Platani lo evidenzia il coordinatore della DC di Ribera Marcello Danna che al tempo stesso auspica una rapida definizione delle procedure per consentire alla realizzazione dei lavori necessari a mettere in sicurezza il territorio ed evitare il ripetersi di fenomeni di esondazione che hanno causato notevoli danni agli agricoltori di quel territorio come partito aggiunge Danna vigileremo affinché tutto proceda regolarmente e si arrivi alla stagione autunnale con le opere già eseguite nella nota diffusa la DC di Ribera evidenzia come l'autorità di bacino della regione avesse chiesto nel gennaio del 2021 al comune di Ribera di effettuare un sopralluogo sull'alveo del fiume Platani nel tratto compreso tra il ponte sulla statale 115 e la foce per accertare l'esistenza di criticità che negli anni hanno determinato l'esondazione del fiume richiesta che è stata inoltrata a seguito di apposita denuncia presentata da un gruppo di agricoltori stanchi di subire danni alle culture e ai terreni circostanti causati dalle diverse esondazioni e a loro dire generati dalla mancata pulizia del letto del fiume Platani e dall'assenza di argini come peraltro sarebbe stato accertato dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento per risarcimento danni l'autorità di bacino si era detta disponibile ad affrontare e risolvere la problematica dice d'Anna e a tal fine aveva invitato le amministrazioni comunali di Ribera e Cattolica e Raclea ad inoltrare apposita segnalazione sulle opere necessarie a mettere in sicurezza l'alveo del fiume il commissario dell'ADC accusa l'amministrazione guidata da Matteo Ruvolo di non aver effettuato alcuna segnalazione in due anni all'autorità di bacino della regione siciliana che fortunatamente nonostante l'inerzia della giunta di Ribera conclude Marcello Danna ha comunque avviato l'iter per la realizzazione dei lavori necessari ad evitare ripetersi di fenomeni di esondazione a Naro si è costituito un comitato di cittadini contro l'installazione di un'antenna di telefonia gestita da Wind3 in via Verga in pieno centro storico i cittadini preoccupati per le emissioni elettromagnetiche chiedono che l'antenna non venga installata ma che venga attuato il regolamento comunale vigente che vieda l'installazione all'interno del centro urbano di impianti di telefonia mobile per salvaguardare la salute dei cittadini ieri si è già tenuto un sitin di protesta mentre oggi il comitato incontrerà la sindaca Maria Grazia Brandara e il consiglio comunale il comitato rileva infine che a distanza di circa 200 metri dall'antenna vi è una scuola primaria e dell'infanzia e nelle vicinanze anche i plessi di una scuola elementare manca una settimana all'avvio degli esami di maturità si inizia mercoledì 21 giugno con la prima prova scritta di italiano in Sicilia sono 48 mila gli studenti che sosterranno l'esame di Stato vediamo il servizio cresce l'attesa tra i maturandi manca esattamente una settimana all'inizio della sessione dell'esame di Stato quello che conclude il percorso scolastico liceale professionale o tecnico e apre le porte al mondo universitario del lavoro mercoledì mercoledì 21 giugno si terrà la prima delle due prove scritte quella di italiano sono giorni di ansia ed emozione per gli oltre 48 mila studenti siciliani che affronteranno gli esami di maturità 43 mila 435 delle scuole pubbliche e 5 mila 145 delle paritarie degli oltre 48 mila candidati siciliani sono 24 mila 370 quelli che sosterranno l'esame a conclusione il percorso di studi liceale 15 mila 430 maturanni degli istituti tecnici 8 mila 780 degli istituti professionali in provincia di Agrigento sono 4926 gli studenti che sosterranno l'esame di stato è la provincia siciliana che registra il maggior calo di maturandi il 4,4% in meno rispetto allo scorso anno seguono Enna con il 3,9% e Messina con il 2,5 tra licei e lo scientifico che conta il maggior numero di maturandi sono 6.885 seguono Classico con 3.959 e Scienze Umane 3.167 tra gli istituti tecnici e l'indirizzo amministrazione finanza e marketing ad avere il maggior numero di maturandi 3.115 seguono Turismo con 2.049 informatica e telecomunicazioni con 1.703 il picco tra gli istituti professionali si trova nell'indirizzo Enno Gastronomia e Ospitalità Alberghiera con 4.504 maturandi presentato in conferenza stampa alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e di tutti i prestigiosi partners nazionali l'evento speciale di Alghero dalla vice direttrice professoressa Maria Angela Longo e il professore Simone Piraino direttore di produzione del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera in omaggio al testimone nazionale Enrico Rava la presentazione è stata arricchita da una breve e apprezzata performance a sorpresa del giovane e talentuoso studente agrigentino Calogero De Cicco allievo della classe del professore Giacomo Tantillo il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera partecipa anche quest'anno all'evento nazionale della 29esima festa della musica italiana ed europea il 21 giugno ad Alghero la manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Roma la presenza del ministro della cultura come dicevamo San Giurano il 21 giugno il Conservatorio Toscanini festeggerà la festa della musica contemporaneamente in altre due città a Sciacca con un concerto pop rock dei solisti e dell'orchestra del conservatorio e a Palermo con l'evento la festa della musica decolla che si terrà all'aeroporto internazionale Falcone Borsellino con una performance di solisti ed ensemble dei dipartimenti classici adesso vediamo il libro che vi consigliamo da leggere davanti alla fine siamo tutti principianti e siccome l'arte del distacco non la possiamo imparare tanto vale affezionarsi a questa signora acquattata nell'armadio cercando le parole per farcele un po' amica ognuno procede a modo suo ci mancherebbe ma qui c'è un piccolo prontuario portatile una cassetta degli attrezzi fatta di poesia paura favole silenzio coraggio lacrime sorrisi mille pozioni per uccidere la notte Paolo Milone accende il buio con le sue folgorazioni e ha la ventatezza di farlo persino con leggerezza perché non possiamo sapere quale di queste strade una sarà la nostra esistere nel corpo è una cosa bellissima non ci sono altri posti per essere noi stessi la morte è l'unica certezza che abbiamo nella vita ma noi allontaniamo il pensiero ogni giorno con pervicace distrazione eppure basterebbe fermarsi un istante ecco perché è fatto di istanti questo libro inaspettato di quegli attimi preziosi in cui esitiamo in cerca di una strada e all'improvviso ci accorgiamo che la vita e la morte fanno gli stessi scherzi perché semplicemente sono un'unica cosa in fondo cosa c'è dopo la morte c'è un paese dove non siamo mai andati ma di ciò di cui non si può parlare non bisogna tacere astenersi principianti di Paolo Milone edito e in Audi per lo sport ciclismo ad Alcamo ottime prestazioni per gli atleti saccensi del sodalizio 100% bici che hanno conquistato diversi piazzamenti interrante Sant'Angelo e Faggio nelle rispettive categorie si sono laureati campioni regionali giovanissimi per il comitato ASI ne parliamo nel servizio campionato regionale di ciclismo Sicilia giovanissimi ASI ad Alcamo si è svolta la settima prova del circuito vi hanno preso parte oltre 150 atleti provenienti da tutta la regione e tra questi anche quelli del sodalizio saccense ASD 100% bici della presidente Liliana Rizzuto e del tecnico Lorenzo Sabella i giovani atleti saccensi hanno ottenuto risultati importanti e ottimi piazzamenti e lì è interrante primo classificato tra i nati nel 2016 si laurea campione regionale Diego Sottile secondo classificato ed Ettore James Pagano sesto classificato nella categoria anno 2015 Francesco Indelicato secondo classificato e Giuseppe Scaduto terzo classificato tra i nati nel 2014 Giuseppe Indelicato quarto classificato per l'anno 2013 nella categoria femminile prima classificata Flavia Sant'Angelo anno 2013 campionessa regionale nella categoria anno 2011 si classificano secondo Vito Sant'Angelo terzo Domenico Gennaro sesto Giacomo Sottile e ottavo Antonino Lombardo nella categoria anno 2010 invece primo posto e campione regionale si conferma Alessandro Fazio nella categoria anno 2009 infine altro campione regionale stavolta per David Libassi il team di Sabella e Marciante quindi si è espresso bene ed ha confermato la crescita tecnica ed agonistica che fa anche ben sperare per il futuro anche per oggi è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle nostre prossime edizioni del telegiornale grazie per aver guardato